Ciao a tutti, un grande grazie e un grande abbraccio agli amici del bandolo che ci concedono questo spazio per parlarvi della nostra campagna per una grande proposta di legge di iniziativa popolare per il taglio del numero dei testicoli. Perché continuare a mantenere due testicoli quando uno è più che sufficiente? La nostra grande legge di iniziativa popolare sarà una rivoluzione. Con un solo testicolo non soltanto renderemo più efficiente lo scroto, ma apriremo la strada al superamento del bicoglionismo perfetto. Basta lungaggini burocratiche, basta rimpalli tra una gonade e l'altra, con un sistema monotesticolare renderemo più rapide le mansioni degli organi genitali, avremo un paese più moderno, un'amministrazione più semplice e trasparente e potremo dire addio allo sperpero. Ci lasceremo alle spalle le polluzioni notturne, le eiaculazioni precoci. Certo, come avrete sentito, da più parti si insinua che in questo modo vi sarebbe una drastica riduzione della rappresentanza, ma è falso. Chi lo sostiene lo fa soltanto perché ha servito a quei poteri che non vogliono rinunciare ai loro privilegi. Rappresentanza, un coglione qualsiasi, è più che sufficiente a rappresentarci tutti, uno vale uno. Non fatevi ingannare, noi vogliamo aprire la strada a una nuova era, vogliamo essere d'esempio, abbiamo l'ambizione di presentarci davanti ai partner europei, potendo dire che siamo i primi ad aver rinunciato agli attributi. Aderisci anche tu alla nostra campagna, cogli questa occasione, tagliati le palle da solo. Grazie, ciao a tutti, pucci pucci, kiss kiss. Eh no, bellini, vanno a dare.